Per qualche anno l'iniziativa è stata di grande valenza sociale, poi visto che andava così bene qualcuno ha deciso di cambiare la struttura. Vediamo. L'idea quando nacque parve subito vincente, dare l'opportunità ai malati dell'ospedale cittadino di trascorrere un momento di aggregazione ascoltando buona musica all'interno del nosocomio. Scendevano dai reparti da soli in vestaglie in carrozzella. Si offriva loro non solo musica ma anche conferenze di medici della struttura. Attualmente lo schema è sempre uguale. Quello che cambia è il luogo dei concerti che avvengono in un albergo del centro cittadino. Quanti saranno i degenti ricoverati che vorranno trasferirsi? È un orso autoironico o inconsciamente autobiografico? No, è il gentile primo cittadino che si è calato perfettamente nello spirito festaiol nazionale di questi tempi. La consegna delle chiavi della città al Jiping è l'atto conclusivo di una manifestazione che ha preso il via a Piazza del Monte, a Biella. Grazie a tutti. La sfilata con Jiping e Kathleen ha percorso la via principale fino al comune. A inizio il Carnevale.